La siciliana palermitana Simona Lamantia è rimasta a 13.54 Ed eccola qui, Ibarguen, mentre prima si è visto il salto di Ripacova a 14.51 Ibarguen è il suo risultato migliore Quest'anno la Diamond League presenta due novità Non più punteggio solo per le prime tre, per i primi tre, ma per i primi sei Ma incredibile ma vero, nei salti in estensione, quindi salto in lungo e salto triplo ed in tutti i lanci